La crisi non ferma la voglia di mare e il fascino della barca. 70 imbarcazioni e 22 stand sono i numeri da record della 26esima edizione di Navigare, il Salone della Nautica Campana inaugurato al Circolo Cannotiri di Napoli e che andrà avanti fino al 3 novembre. Si respira voglia di mare con risposte positive degli addetti ai lavori e non solo, nonostante la paura che pure si è diffusa dei controlli fiscali. Il controllo dell'agenzia delle entrate ha riguardato persone che con la nautica vera avevano poco a che fare. L'utente appassionato c'è sempre stato e ci sarà sempre. Il mare è nel DNA fin da bambini, è qualcosa che piace a prescindere dai redditi, a prescindere da tante altre cose. E la crisi colpisce anche i VIP. Peppino Di Capri sta pensando seriamente di vendere la sua barca. Acquirenti cercansi. È un peccato perché tra l'altro se la vivi, allora la barca la tieni sempre in tira. Invece quando non c'esci, paradossalmente, rischia che si consuma di vecchiaia, di trascuratezza. Però insomma è un momento questo. Speriamo perché c'è anche nella...